È noto che, al momento, per i mercati azionari globali, il 2022 si sta rivelando un anno disastroso. Annus horribilis, si diceva una volta, appunto rispolverando l'espressione latina. Diamo così qualche numero, così per capire anche l'entità del disastro. Negli Stati Uniti, dall'inizio dell'anno, l'indice Dow Jones è sceso dell'11,4%, lo Standard & Poor's 500 del 15,6% ed il Nasdaq addirittura del 24,6%. In Europa l'indice principale della borsa francese ha perso l'11,3% e quasi un punto in più il ribasso degli indici di riferimento di Germania e Italia che hanno perso entrambe, hanno registrato un calo del 12,1%. Ma la cosa che più impressiona è il crollo avuto dal comparto obbligazionario. I prezzi dei titoli di Stato sono letteralmente sprofondati, soprattutto in questi ultimi due mesi. Il nostro BTP, che all'inizio dell'anno quotava 160, oggi ha chiuso a 140, un ribasso quindi del 12,5%. Insomma, chi conosce, anche se non in maniera approfondita, i mercati finanziari non può che rimanere impressionato per un ribasso simile. Chiarisco subito però, non si può dire che non era un ribasso annunciato. Il comparto del reddito fisso era evidentemente in una bolla speculativa, per cui era facilmente prevedibile che prima o poi avremmo assistito ad un crollo. Ma, come al solito, per quanto si possa essere preparati ad un crollo, poi quando si verifica si rimane sempre impressionati. Un ribasso del 12,5% per un titolo dello Stato decennale è una botta pazzesca. E' chiaro anche che tutto questo è avvenuto perché finalmente l'inflazione, che da tempo aveva gonfiato i prezzi dei titoli finanziari, azionari ed obbligazionari, insomma senza distinzione, dicevo appunto, finché l'inflazione è rimasta nel comparto finanziario tutto bene, nel senso che se la gente non vedeva salire i prezzi al supermercato ed invece salivano i rendimenti dei propri investimenti, dei propri risparmi, vabbè in quel caso sono tutti contenti. Ma il ben godi, lo sappiamo tutti o almeno dovremmo saperlo tutti, che il ben godi esiste solo nelle favole. Nella vita reale invece prima o poi qualcuno si viene a riprendere e con gli interessi, ciò che pensavi ti avessero regalato per sempre. E ti accorgi in quel momento che la festa è finita, insomma. Oggi quindi i prezzi che vedi aumentare sono quelli del supermercato, mentre quelli dei titoli finanziari sprofondano. Ok, però mi chiederete, in tutto questo marasma c'è qualcosa che si salva? Ebbene, naturalmente non andiamo a vedere come si sono mossi i prezzi del comparto immobiliare e delle varie materie prime. Mi limito, anche perché molti di voi me lo hanno chiesto, ad analizzare il comportamento dell'oro. I soliti bene informati, sono ironico, chiarisco, quelli che credono di sapere tutto, ma nella realtà non sanno neanche fare la più semplice delle deduzioni, vi diranno che è sceso anche l'oro, perché vi diranno che era arrivato a 2000 dollari l'oncia nelle prime settimane di marzo, ossia un paio di settimane dopo l'inizio dell'operazione militare speciale promossa dalla Russia, mentre ora appunto vale poco più di 1800 dollari. Insomma, quindi ha perso 200 dollari rispetto ai 2000 dollari, quindi insomma il 10%. Allora, innanzitutto, così come è stata calcolata la performance dei titoli finanziari, ossia da inizio anno, e dobbiamo fare la stessa cosa anche per l'oro, e dall'inizio dell'anno l'oro valeva poco più di 1800 dollari l'oncia, proprio come adesso. Quindi, insomma, la performance finora del 2022 dell'oro è all'incirca zero. Ma attenzione, i sapientoni dei quali parlavo prima sono talmente idioti che non riescono neanche a fare questa semplice considerazione. quel prezzo dell'oro è espresso in dollari, per cui per uno statunitense, vabbè, è proprio così, ma per un europeo, che quindi possiede l'euro, e se avesse investito in oro all'inizio dell'anno, avrebbe avuto un ottimo guadagno, derivante ovviamente dalla rivalutazione del dollaro nei confronti della moneta unica. Faccio un esempio banale, se un europeo, prendiamo pure un italiano, insomma, che all'inizio dell'anno avesse comprato un'oncia d'oro, cioè poco più di 28 grammi, per quanto, appunto, abbiamo detto, la pagava all'incirca 1800 dollari. E visto che all'inizio dell'anno il cambio euro-dollaro era di 1,137, quindi pagava quest'oncia d'oro 1583 euro, cioè 1800 diviso 1,137. Ma se quell'oncia d'oro la vendesse oggi, incasserebbe, come abbiamo detto, sempre all'incirca 1800 dollari, ma oggi il cambio euro-dollaro è 1,04 e quindi incasserebbe 1731 euro, cioè 1800 diviso 1,04, mettendo a segno quindi un guadagno di 148 euro, che su un investimento iniziale di 1583 euro equivale al 9,35%, insomma, in meno di cinque mesi direi proprio non male come guadagno, come rendimento. Ecco quindi una cosa, forse l'unica di buono che abbiamo riscontrato in questo 2022, ossia la rivalutazione del dollaro nei confronti dell'euro. altra piccola puntualizzazione, prima che ci sia sempre il furbo di turno che mi dica che dovevo dire la svalutazione dell'euro e non la rivalutazione del dollaro. Quindi, ecco, in maniera preventiva avverto subito i furbi che è più corretto parlare di rivalutazione del dollaro, perché la moneta americana si è rivalutata non solo nei confronti dell'euro, ma praticamente rispetto a quasi tutte le valute al mondo. L'euro invece, da inizio anno, ha una valutazione inferiore rispetto al dollaro, ma così ad esempio si è rivalutato nei confronti dello Iene e di altre monete al mondo, insomma. Chiudo così l'annotazione preventiva. E allora, questa rivalutazione della moneta americana, ovviamente, non è benefica solo per chi ha fatto degli investimenti in dollari, ma consente anche alla nostra economia, soprattutto per le aziende che esportano in area dollaro, di prendersi, diciamo, una boccata d'ossigeno. Naturalmente voi mi chiederete, ok, questo è quello che è accaduto finora, ma che previsioni ci sono per il futuro? L'oro salirà o scenderà? Il cambio euro-dollaro salirà o scenderà? Ebbè, sull'oro non mi pronuncio, ma ovviamente, almeno per il cross euro-dollaro, molto dipenderà da come si muoverà la Banca Centrale Europea. Se sarà ancora prudente nell'aumentare i tassi, è probabile che il cambio continui la sua discesa verso la parità. Se invece la Lagarde subirà i ditta della Bundesbank e quindi rialzerà i tassi, diciamo, in maniera robusta, beh, ovviamente in quel caso potremmo addirittura vedere l'euro risalire. Tuttavia io comunque vedo l'euro in difficoltà, proprio per le scellerate sanzioni nei confronti della Russia. Quindi per il momento non vedo un indebolimento del dollaro. Ma tutto questo, come al solito, lo scopriremo solo vivendo.